cari amici buonasera voglio fare un piccolo tutorial stasera su come va trattata lancia quando non vuole suonare un piccolo consiglio un piccolo trucchetto che utilizzo pure io innanzitutto prendete lancia lasciatela asciugare un pochettino dopodiché mettetela su una superficie abbastanza diciamo rigida la lasciate asciugare per due tre minuti alla fine la fine accertatevi che che la superficie sia abbastanza dura ok alla fine prendete lancia e fate questo ecco qua dopo questo lancia è pronta per essere buttata buonasera un abbraccio a tutti